Dopo un lungo precampionato, domenica al Palasport Estra, la Melle Scuola Basca e Tarezzo, sarà impegnata nella prima giornata del campionato di Serie C, avversario degli Amaranto, sarà il consorzio Leonardo Servizi Quarrata, uscito dal mercato estivo notevolmente rinforzato dopo la salvezza raggiunta ai play-out nella scorsa stagione. La squadra pistoiese si è assicurata le prestazioni dei lunghi topo e bargiacchi, giocatori provenienti dalla C-Gold e che rappresentano una coppia di pivot con pochi uguali in categoria. Inoltre la squadra affidata al nuovo coach Valerio ha aggiunto anche l'esterno Guerrini, i giovani scuola Pistoia Basket, Catalano e Cannone. Grazie a questi innesti Quarrata si candida come una delle protagoniste per la lotta alla promozione. Per questo motivo la gara di domenica rappresenta subito un test stimolante per l'Amenesba che dopo l'impresa in Coppa Toscana dove ha raggiunto la Final Four, unica squadra di Serie C Silver a riuscirci, dovrà affrontare un avversario ostico. Arbitri dell'incontro saranno i signori Barbarulo di Vinci, Firenze e Montalbetti di Empoli che alzeranno la prima palla a due del campionato alle 18.15 al Palaestra. Considerata l'importanza della gara, l'invito è a tutti i sostenitori a Maranto di seguire la squadra fin da questo primo appuntamento per lottare per un traguardo che nello scorso campionato è sfumato solamente in semifinale play-off.